buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento con qualla zampa vorrei dare qualche consiglio in questa puntata a tutti coloro che hanno deciso di regalare o portare a casa un cucciolo proprio per le festività di natale è importante il momento dell'inserimento del cucciolo è proprio un periodo di vacanza per poter dedicare più tempo all'animale che viene introdotto in casa è fondamentale per una buona crescita del vostro cucciolo una delle prime problematiche che bisogna affrontare quando si porta a casa il cucciolo è come insegnargli a sporcare fuori da casa per gestire al meglio questa situazione consiglio di portare fuori il cucciolo frequentemente se è possibile anche ogni due o tre ore soprattutto dopo ogni pasto e quando il cane sporca fuori lo datelo con una carezza con un bel bravo o potete anche ricompensarlo con un bel bocconcino appetitoso e questo soprattutto deve essere fatto però con un'ottima tempistica quello che voglio dire è che nel momento in cui il cane fa qualcosa di buono dovete lodarlo subito o comunque dargli un premio un biscottino adatto a cani è proprio nel momento in cui ha eseguito il comando comunque ha fatto la cosa corretta cercate di abituare il cucciolo al collare al guinzaglio cercando di evitare di trainarlo anche perché l'uso del collare al guinzaglio se mal adoperato all'inizio può diventare traumatico ma è molto importante in modo che il cane impari a essere controllato da voi e soprattutto possa essere poi successivamente portato a spasso con le giuste precauzioni quindi un collare un guinzaglio ricordatevi che è fondamentale nelle prime fasi di vita del cucciolo soprattutto quando comincia a avere un rapporto con le persone che il cucciolo socializzi anche con altri cani e altri animali questo è importante in modo che non sviluppi comportamenti aggressivi quando sarà più grande ma possa essere in grado di socializzare con altri cani e quindi convivere tranquillamente con il vicinato e con gli altri animali che incontrerà durante le passeggiate bene vi auguro un buon natale e ci vediamo settimana prossima arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.